Musica Salute ragazzi e bentornati qui sul mio canale E qui come ve lo so ci sono qui per portarvi Un nuovo episodio della serie classe buggata Della settimana ragazzi e la classe Che vi vado a portare oggi potrei Definirla come definì diciamo il vesper A inizio del gioco ovvero uno sgrassatore Ragazzi una battuta di merda che Indica praticamente che quest'arma Scioglie, squaglia Polverizza insomma i nemici ragazzi In una maniera veramente illegale sto parlando Di una classe con il 48 dredge che è stata potenziata Arma che appunto è stata potenziata alla quale È stato aumentato il rato di fuoco e vabbè Dei movimenti vari cioè tipo il miri Diciamo la velocità con cui si chiude il miri insomma Un po' di cose irrilevanti la cosa importante è che Ha aumentato il rato di fuoco ragazzi E quest'arma già fortissima Prima che già volevo portarvi È stata resa ancora più forte E quindi accessorata in questo modo con Estrazione rapida Fuoco rapido E caricatori rapidi Niente calcio regolabile Perché tanto Non mi serve a un cazzo E se voi sparate bene E siete precisi Non come sto sparando io ora Che sto sparando malissimo E voi siete precisi E colpite i nemici raga Li squagliate Con una raffica Ma in un attimo proprio Cioè in un secondo il nemico è già morto Ora devo cercare di trovarne uno E spararli bene perché Praticamente Ecco qua per esempio Questo è un esempio Come per l'M8 Oddio Molti mi dicono Eh vabbè ma L'M8 solo a te ammazza in una scarica L'M8 come tutte le armi A raffica Ammazza in una scarica Se voi la mandate tutta a segno Alla scarica Se voi colpite con un colpo Di tutta la scarica E' ovvio che non shota Sa cosa ragazzi Per quest'arma Solo che questa ha un ratio Veramente spaventosamente alto Quello è un nemico no? E quindi veramente Squaglia i nemici In una maniera illegale Ragazzi Guardate L'unico problema Diciamo È che comunque È un mitraglione Quindi è un po' goffo Nei movimenti Però Non è che si può avere Tutto alla vita ragazzi Su via Quante cose volete Cazzo Ora ricarichiamo Cioè a me piace un botto Personalmente Vi dico Non va bene per TCT Questo Steve Sti97 Mi sta rompendo la minchia Raga Perché c'è lui c'ha il VMP Quindi da vicino Chiaramente mi killa Più veloce a muoversi Dicevo L'unica cosa è che Non va bene secondo me Per TCT E per le mappe piccole Tipo su dominio Mamma mia Su dominio paurosa Su Nuketown raga Su Nuketown da paura Cioè se giocate In maniera un po' tattica No? Senza correre eccessivamente Cioè guardate quanto Ho squagliato quel tipo Se giocate in maniera un po' così Arragionata Che Nuketown fondamentalmente Si fanno tante kids E si gioca in maniera arragionata Se state guardando Quanto sto Sciogliendo i nemici Nemmeno mi vedono Cioè E sono tutte kill quelle Andiamo qua su Quindi veramente Secondo me Su Nuketown potrebbe fare La paura Se non ha qualsiasi mappa ragazzi Normale Non troppo Grande È una via di mezzo insomma Nuketown intesa come Nuketown senza correre Ripeto eh Cioè Nuketown magari stando Nella zona centrale Così Non vorrei dire Camperare Perché non mi piace dirlo Però Insomma Ci hanno capito Senza correre eccessivamente Mamma mia Cioè non hanno veramente Il tempo di reazione Con quest'arma Cioè non c'è proprio Il tempo Di reagire È veramente uno sgrassatore Ragazzi Li squaglia come non mai Li polverizza Che palle Che sestun Che situazione di merda Ragazzi Eh che fate Sono morto Quando inizio a cioccare Così tanti colpi Finisce che muoio sempre Però stiamo facendo Una buona partita Non mi lamento Possiamo fare Cioè abbiamo fatto Di me Stiamo Stiamo avendo anche Un po' di sfiga Perché becchiamo Tutta la gente di merda Con le stronzate Però Però comunque Non sta andando male Stiamo qua su L'ideale comunque Per quest'arma Per il gunfight Dalle medie distanze Né troppo vicini Né troppo lontani La via di mezzo Raga Tipo questo Dai questo qua Andava perfettamente bene Perfettamente bene Era perfetto Raga Perché non era Troppo lontano Perché da lontano Non è proprio forte Quest'arma Mi fa un po' cagare Da lontano Da vicino Si rischia di perdere Gunfight contro i mitraglietti Come giusto che sia Se no c'è Cazzo è forte in ogni In ogni modo Invece Dalle medie distanze Tipo da vicino Vedete C'è tipo questo Sti 97 Che stai 97 Che mi spacca Chiaramente Perché c'ha il WMP Ed è giusto così Cioè sarebbe ridicolo Che non fosse così Mamma mia Cosa gli abbiamo fatto Ragazzi Mamma mia Veramente 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 Fortissima Oh mio dio Raga Mamma mia Da paura Fatemi sapere Se l'avete provata Se vi piace Un po' insomma Quello che volete Ragazzi Io spero che vi sia tornato utile Questo video Che vi sia piaciuto E niente Noi ci vi chiamo Semplicemente domani Alle 3.30 Per entrare con un nuovo video Bella